Buongiorno a tutti, oggi questo video con voi perché voglio augurarvi naturalmente buone feste, un sereno Natale e un gioioso e ricco proprio di colori e di vivacità per il prossimo anno e naturalmente tutte festività comprese. Voglio inoltre ringraziare tutti voi che attivamente e anche in questi ultimi tempi ho notato, forse perché vi sollecito spesso, comunque ho notato ancora più attivamente partecipate allo sviluppo di questo canale, alle cose che io porto attraverso i miei video e mi fa molto piacere perché come vi ho sempre detto io voglio fare questo canale con voi quindi vogliamo farlo insieme e più dati, più informazioni abbiamo che possiamo poi elaborare, vedere tutto quanto questo materiale insieme noi possiamo imparare tanto e questo è qualcosa che serve a voi, serve a me e serve a tutti, quindi tante grazie per partecipare. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che tramite il mio canale YouTube sono arrivati al nostro sito e quindi hanno sbirciato un po' nelle cose che facciamo e nei nostri prodotti e hanno scelto di acquistare i nostri prodotti e siamo felicissimi perché abbiamo avuto un riscontro assolutamente molto positivo. Quindi cosa dirvi, insieme ai nostri prodotti naturalmente possiamo dirvi questo, che noi mandiamo il nostro giardino, quindi le nostre piante, i nostri fiori, perché tutti i nostri prodotti arrivano direttamente da questo territorio, sono piante che abbiamo, proprio noi che coltiviamo e anche da noi stessi perché la nostra lavorazione è una lavorazione assolutamente senza macchinari sia in campo che in laboratorio e quindi c'è dentro al nostro prodotto anche la nostra energia personale che utilizziamo proprio per la produzione. Così vi ringrazio veramente tanto e naturalmente ringrazio con questo anche tutti coloro che sono già i nostri clienti da tempo e con l'avviarsi di questo canale hanno subito partecipato e sono ancora presenti adesso sempre di più, quindi veramente cosa si può dire. Grazie a tutti e ancora buone feste, prendetevi una bella pausa di riflessione, può darsi che durante queste due prossime settimane, proprio nelle festività, magari non ci vediamo perché io voglio anche prendere una piccola pausa, abbiamo molto da fare anche proprio con la nostra produzione perché il nostro prodotto non è solo Natale, abbiamo anche molta richiesta sia poi dopo fino alla chiusura delle feste, quindi abbiamo tanto lavoro, magari ci prendiamo una pausa, io ho già una bella lista di argomenti che vorrei trattare perché non riesco mai a stare dietro alle vostre richieste e quindi mi preparerò comunque perché voglio affrontare temi molto interessanti, quindi voglio trovare più documentazione possibile proprio per riuscire a affrontare al meglio questi temi, quindi un saluto a tutti quanti e un augurio a tutti e un ringraziamento. Ciao! Grazie!